Il libro cane Guarda come dorme Beato! Senti come russa! Ehi pigrone, è ora di alzarsi! Per svegliarlo, chiama forte il suo nome e poi gira la pagina. Cane! 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 Oh, buongiorno! Ora si stiracchia. Per rimetterlo in movimento, dagli una grattata energica sulla schiena. Ma come? Dormi di nuovo? Presto, chiamalo! Scuotilo un po' e poi volta pagina. Cane! 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 Cane, svegliati! Finalmente è sveglio! Come scodinzola! Sta aspettando le tue coccole. Su, grattagli la pancia! Mmm, che goduria! Ma adesso basta, carezze. Vediamo quanto è obbediente. Prova a dirgli in modo deciso. Seduto! E poi volta pagina. Seduto! Che ci fa spaparanzato a terra? Non gli avevi detto seduto? Alza di più la voce e chiedigli di nuovo di sedersi. Seduto! 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 Bravo! Finalmente ti ha obbedito. Adesso prova con... In piedi! Diglielo forte e chiaro. In piedi! In piedi! Un vero disastro. Si gratta il tontolone. Meglio lasciar perdere. Forse vuole giocare. Tiragli la pallina rossa con il dito. Oh! Oh! Beh, dove è andato? E dove è finita la pallina? Prova a girare la pagina. Eccolo! Pallina recuperata! Ma dove si era cacciato? È tutto sporco di fango! Forza! Dagli una ripulita! Usa pure la tua maglietta! Ottimo lavoro! Neanche più una macchia! Ora è proprio stanco. D'altronde è stata una giornata intensa. Dagli la buonanotte con un grattino sotto al collo. Poi piano piano gira la pagina. Buonanotte! 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 Dorme! Finito!